ciao a tutti ragazzi da tfg on demand no no voglio essere in piedi per gustarmi al massimo proprio voglio fare il pubblico io clash estremo ragazzi ce l'avete chiesto e io potrò farlo allora vi assicuro che probabilmente vi c'è il bagno ci saranno spruzzi di vomito allora devo fare un attacco tanto le truppe che ho preparato va solo barbari 6 domatori che nel video precedente sono rimasti vivi 5 che non ho spacca il muro e due curatori al 4 esatto due curatori perché purtroppo le incantesimi sono ancora in costruzione trovo due furie data la difficoltà dell'attacco che ora vi illustreremo attaccheremo non un villaggio forte proprio sarà comprendente il caso abbiamo deciso di attaccare il terzo villaggio che troverà il terzo il terzo villaggio l'attacco uno continua l'attacco sarà impostato sul fatto di girare sulla sedia mentre viene sbocco il povero povere il povero incendio porca troia eh beh certo dai io mi accingo a far girare lo schifo ok pronto ok dimmi tu quando posso iniziare a mettere le fonte fai piano che non mi si smacchi la sedia oddio mio fermi 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 fermo fermo più giù non vedo non vedo guarda che mi cade il telefono aspetta ok 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 mi sta finendo un po' l'effetto oh adesso riesco a guardare bene adesso riesco a guardare no no fermo perché di nuovo perché lo fai ok adesso riesco a mettere trucco ma che bene oh guarda che riesco a mettere tranquillamente no 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 fermo fermo non capisco più un cazzo fermami fermami oh merda oh merda non riesco a vedere come non riesci a vedere cioè nel senso vedo ma non vedo dove dove sono scusa come sta andando non lo so comunque adesso hai i cosi fermati ok 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 ma no devo dirmi che hai trucco del clan ok no mi sta prendo l'effetto guarda che no basta ha un effetto bastardissimo sta cosa guarda che non stai a poco a caso fermati fermati non vedo niente ci vedi no non capisco quattro bene sono 7 come sono 5 le dita sono 5 ok buttiamo il ribalbero lì furia 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 del ribalbero furia ecco vedete che bene guardate quanto ho fatto rilegante 27 per cento 28 basta basta non vedo capisco più niente non capisco più niente grazie grazie oh merda oh merda oh merda oh merda aiuto oddio scusami un attimo mi sta cadendo il cellulare ragazzi vai a randolare l'altra parte per questo tesi e comunque ragazzi grazie per averci consigliato questo codo obiettivi quando taylor soffre io sono estremamente felice ciao a tutti e al prossimo video ok mi sono e madonna vedo proprio ok